Oggi volutamente non siamo andati a prenderli alti perché le caratteristiche della Fiorentina, il palleggio che hanno, lo smarcamento e la qualità che hanno ti mandano fuori i giri. In più è una squadra che quando costruisce si apre molto e abbiamo pensato di chiudere le linee di passaggio, stare cotto e colpirli in contropiede. Ci siamo riusciti e ci siamo riusciti anche molto bene, in circostanze è arrivato il gol, qualche pallone, siamo stati poco lucidi nell'ultimo passaggio. Poi nel secondo tempo, come hai detto tu, per fare questo tipo di gioco ha bisogno anche di giocatori che hanno gamba come Baiba, che c'erano altre caratteristiche, però è entrato molto bene anche lui. E allo stesso tempo la Fiorentina è una squadra che comunque ti fa correre molto e inevitabilmente cali un pochino. Io credo che abbiamo fatto a livello difensivo tutto bene dall'inizio alla fine, ci è mancato un po' di gamba nel ripartire perché oggettivamente i ragazzi hanno corso tanto e alla fine magari mancava questa spinta finale nelle gambe, ma è normale, è umano. Ma quando giochi contro grandi squadre ti schiacciano, non c'è niente da fare. Tu puoi andare in avanti quanto vuoi, ma puoi fare qualche uscita molto offensiva, molto in alto. Però poi hanno una capacità di palleggio e di giropalla che inevitabilmente ti schiacciano. Ripeto, con il Napoli magari non era volutamente preparata una partita per stare così bassi. Con la Fiorentina sì, per sfruttare anche le ripartenze perché sono una squadra che si apre molto. Abbiamo cambiato qualcosina, nel senso che da una parte c'era Zampano perché loro giocando a 5, nel momento in cui ci difendevamo diventavamo a 5. Però poi è inevitabile che avendo Zampano lì, un certo tipo di lavoro, come siamo abituati a farlo in fase di possesso palla, il tipo di lavoro cambia perché ha caratteristiche diverse. Però ovviamente, come hai detto tu, un pizzico di frenesia, qualche ultimo passaggio l'abbiamo sbagliato. Anche nel secondo tempo, un paio di volte. Questa volta si è stato, in virgolette, anche apostrofato nella nota diramata dalla tifoseria. Grazie. Abbiamo fatto 6 punti, hanno ragione. Ho preso gli applausi, prendo i fischi. Che devo fare? Io metto sempre il massimo impegno in tutto quello che faccio, la passione. E do sempre il 110%. Questo non vuol dire che sono perfetto, che non sbaglio, anzi, sbaglio tantissimo. Non posso farci nulla. Io faccio del mio meglio, come fanno del loro meglio i ragazzi. Però quando le cose non vanno bene, non è che succede solo qua per scala. Ti fischiano e i fischi, te li prendi come preso gli applausi. Va bene così. Cioè, va bene così. Dispiace. Dispiace perché... Perché dispiace sempre prendere i fischi e prendere critiche. Però quanto mai come oggi sono giuste. Non possiamo dire nulla. L'approccio è stato buono. Il nostro avversario ha abbassato molto il blocco. La velocità del nostro gioco non è stata il migliore. Non ci ha permesso... Cioè, cercare di provocare molto più l'avversario nella verticalizzazione e nella porta avversaria. L'abbiamo fatto molto di più nel sfondo tempo. Comunque, non sono d'accordo nella questione dell'approccio. Credo che la squadra era molto convinta, è stato bene a livello di controllo dello spazio, con insessione di qualche transizione che abbiamo preso. Perché le nostre prime linee non hanno riuscito a filtrare che alcuna. E dopo anche la nostra linea più retratta ha lasciato un po' più di spazio per i movimenti, di contro i movimenti, delle punte, di attaccare la profondità e ci ha creato qualche difficoltà. Comunque, principalmente, la squadra dopo, con buon spirito, ha continuato e ha migliorato tantissimo nella velocità del nostro gioco, sia in ampiezza, sia nella nostra circolazione, sia dopo anche in verticalizzazione. Abbiamo preso qualche decisione, anche a livello di linee, dove abbiamo cercato di avere più giocatori dentro d'aria, perché il blocco era talmente basso che non ci dava la possibilità di giocare fra le linee. Abbiamo cercato nel primo tempo di farlo, di portare via il centrocampo avversario per dopo poter giocare fra i riparti. Non abbiamo riuscito neanche a circolare per poter avere la possibilità di uno contro uno in corsia di esterni. Quello che abbiamo fatto tantissimo nella seconda parte, che ci ha permesso non solo il numero di cross e tiri in porta dei nostri esterni, perché abbiamo fatto diversi cambi posizionali, principalmente sulla destra, con Chiese e con Ili, perché giocatori adatti per poter anche fare quello. Abbiamo avanzato una linea Mattias vicino, che ci potesse permettere anche di avere più presenza dentro d'aria. Abbiamo, dentro della circolazione, provocato anche con tiri in porta. Questo credo che la squadra ha cresciuto fino alla fine per vincere la partita. È la fase di essere il più competitivo possibile, cercando di vincere ogni partita, sapendo che i nostri avversari stanno facendo bene e stanno anche vincendo. Per questo non dipende solo di noi, dipende di quello che noi possiamo controllare, che è la nostra qualità di gioco, provocando, creando, facendo più goli che i nostri avversari per vincere ogni partita.